Senta, qui siamo alla confessione, quindi mi deve spiegare una cosa. Mary Regol Jalapas. Lei ha quasi subito rotto a quell'epoca dicendo testualmente mi piace lavorare in un ambiente in cui sento di essere ben voluto. Se non è così, me ne vado. Cosa diavolo era successo? Ma c'erano dei piccoli screzi con la Gialapas che poi si sono ricomposti, però lì credo di aver sbagliato io, anche perché con Teo ci sono da lì, si era talmente affiatato che è stato un peccato dividerci come del resto. Recentemente ci siamo rincontrati e effettivamente rivedendo le vecchie cose erano veramente molto belle. E i piccoli screzi per esempio? Io avevo fatto Ninetta de Cesari e uno della Gialapas quando uno comincia a travestirsi da donna vuol dire che ha la frutta. questa cosa qua mi sembrava ingenerosa, perché comunque mai dire gol è nato con i personaggi miei e di Teo sostanzialmente. Certo.